Spiegano se siete gli spettatori che Roberto Cingolani, per chi non conoscesse, è uno scienziato, è un fisico prestato alla politica con tutte le conseguenze che ne derivano. Per esempio, lei è molto contestato dagli ambientalisti, perché tra le altre cose lei li ha definiti dei radical chic. È stata una delle sue uscite sbagliate o lo pensa davvero? È tutto registrato. Io ho detto che il mondo è pieno di ambientalisti radical chic, riferendomi testualmente a quel gruppo di persone che vuole, per esempio, le rinnovabili, ma non nel proprio giardino. Sono stato molto preciso nei termini, le parole hanno un peso, e quindi ho detto esattamente questo. Per cui, tra l'altro, io ho degli ottimi rapporti con l'associazione ambientalista. Il punto fondamentale è che chi è veramente ambientalista deve capire che è arrivato il momento per noi tutti di rinunciare a qualcosa. pretendere la rinnovabile e dire ma non nel mio giardino, ecco, questo è un atteggiamento profondamente ipocrita. Però ci sono proprio due posizioni.